Gianni Melozzi è per il sesto anno consecutivo direttore artistico di Ripattoni Arte 2018. Quest'anno è la rete, la connessione tra tutte le manifestazioni dell'arte. Riusciamo a racchiuderle e sintetizzarle in una manciata di secondi? Sì, è stato il tema che ci ha maggiormente attratto e intrigato per la grande potenzialità di declinazione che può consentire. Infatti gli artisti sono chiamati a interpretare questo concetto in tutte le forme, in tutte le modalità creative della loro disposizione. Noi cercheremo di rappresentarle nel miglior modo coinvolgendo l'ambiente costruito del borgo, facendo in modo che la passeggiata artistica del visitatore possa essere accompagnata anche da momenti di apprezzamento di quello che è il nostro ambiente costruito più antico, che anche fermarsi a mangiare qualcosa insieme la sera. Insomma deve essere qualcosa di favorevole, di piacevole anche per la famiglia. Niente lasciato al caso, quali saranno però i momenti salienti di questa edizione? I principali eventi coinvolgono sia tutti i nostri artisti associati, però abbiamo una mostra che penso piacerà a tutti, dedicata a Montauti, nell'ambito proprio di questa attività quasi di rete che ha contraddistinto il centenario dell'artista. Poi ci sarà un'installazione a cura di una classe del liceo artistico statale Montauti, che credo piacerà anche lì molto, perché c'è stato un lavoro bellissimo fatto in un progetto alternanza scuola-lavoro. Poi abbiamo un'installazione all'interno di Palazzo Sariciti, dedicata dall'architetto Beppe Barone, che è sinuosa, che è una declinazione interessante sulla vitalità della rete. Poi abbiamo tutti gli artisti che esporranno nei vari fondi, negli angoli più suggestivi del borgo. Insomma tutto il percorso sarà reso da una passeggiata, penso, spero, piacevole e apprezzata. Anche laboratori ed eventi musicali? Assolutamente sì, nel pomeriggio dedichiamo come tradizione uno spazio importante ai ragazzi, anche ai bambini, con laboratori, con avviamento anche alla conoscenza delle forme d'arte, delle forme di espressione, con molti protagonisti, il programma è ricchissimo, poi abbiamo un evento musicale ogni giorno e c'è anche uno spazio per la letteratura con la presentazione di alcuni libri, sia giovedì e venerdì 26 e 27. Grazie. Grazie. Grazie.